Alessandro Bizzari a Pescara, mai in Serie C nella tua carriera, però questa sicuramente non è una diminuzione per te? No, è una chance di mettersi in gioco, il mio obiettivo è quello di mettermi in gioco e dimostrare il mio valore. Non è un problema a categoria, perché comunque il Pescara è una società di grande livello, quindi secondo me se parliamo di società non c'è Serie C, Serie B. Sei un giocatore scuola Milan, di te si parlava come un possibile nuovo buffon, poi forse c'è stato qualche problema, non si è riuscito a tenere fede a quelle che erano delle grandissime aspettative? Ognuno ha il proprio percorso, io sono contento di fare il mio, sono contento di stare qua a Pescara, il Milan lo devo ringraziare perché mi ha cresciuto come uomo e tutto quello che sono adesso lo devo a loro, quindi un grazie enorme al Milan e adesso, come ho detto prima, mi metto in gioco passo dopo passo, allenamento dopo allenamento, io voglio dare il massimo. Come è nata la trattativa che ti ha portato a Pescara? Tra l'altro sei stato acquistato a titolo definitivo dalla società Biancazzurra che punta fortemente su di te. Pescara mi ha cercato, io avevo una voglia amata di mettermi in gioco, di giocare, comunque di giocarmela con Daniele, quindi alla prima chiamata io ho detto al mio procuratore, va bene, non c'è problema, anzi sono contentissimo, dimmi quando posso andare giù e ci vado. Ecco, dicevi Pescara è una piazza importante. Ringrazio il direttore, il presidente e il mister per la fiducia. Come dicevi prima, arrivi in una piazza importante, una società ambiziosa, una tifoseria che vuole rivedere al più presto la squadra, almeno in Serie B. Io sicuramente non faccio pronostici perché, come ho detto prima, sono scaromantico, però posso dire che io come il gruppo daremo al 100% per fare il meglio possibile. Cosa ti piace di questo ambiente e cosa hai apprezzato di più in queste prime settimane in arrivo all'Adriati? No, poi devo ringraziare il mister, il team manager Francesco per l'accoglienza, anche il direttore e il presidente perché ho trovato un gruppo molto coeso e mi ha fatto subito sentire uno di loro.